Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, l'ultimo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa per questa settimana che ci sta conducendo alla Pasqua. Iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali partendo dal centro. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara, il titolo di apertura è Costi gonfiati per i raccomandati, l'inchiesta sull'appalto delle menze, spese inutili per le assunzioni. E poi richiami dal nazionale, alta tensione con gli Stati Uniti, Corea, l'allarme cinese, la guerra è possibile, poi la decisione del governo, reddito di inclusione per 2 milioni di poveri. Andiamo a vedere, ricarichiamo la pagina, andiamo a vedere a centro pagina la grande foto di Gigi Buffon, l'abruzzo nel mio cuore, non solo Pescara Juve, parla il portiere bianconero alla vigilia della super sfida dell'Adriatico Cornacchia di questo pomeriggio. E poi all'interno, di spalla, Ortona, marito omicida, confesse e si dispera. E poi a San Giovanni, armi e droga dentro casa, 50enne in cella. Andiamo nel taglio basso, oggi i funerali, Pescara dà l'addio a Piscione, l'ex sindaco di Cie, morto a 80 anni, inaugurò la stazione dopo Carlo Pace, un altro lutto nella politica pescaresi. I funerali si svolgeranno oggi alle 16.30. Possiamo andare avanti sempre con la lettura del quotidiano Il Centro. Cambiando edizione, adesso passiamo a quella di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura riguarda ovviamente il duplice delitto di Ortona, una frase, ha scatenato l'orrore, l'omicida confesse e piange, l'amica mi ha detto, tua moglie è mia. Queste almeno le prime indiscrezioni che emergono dalle indagini che sta conducendo la procura teatina assieme ai carabinieri. Nelle cronache, andiamo a vedere anche nelle cronache, a Chieti schianto senza la patente, grave un ventenne, poi a Tessa il caso Sevel finisce in Parlamento e ancora per le manifestazioni dedicate alla settimana santa 30.000 per il Cristo morto, a Chieti la processione del miserere commuove e riempie la città. Andiamo ancora avanti e andiamo a vedere adesso la pagina di Teramo. Bimba autistico, la ASL paga le cure, mancano strutture, l'ordine, il giudice dopo il ricorso dei familiari. All'interno ritroviamo sempre l'omicidio di Ortona, marito omicida confessa e si dispera e poi a Teramo tagli e vestiti dell'ex moglie va a processo. Per quanto riguarda invece il calcio di Lega Pro, partita decisiva per il Teramo nel taglio basso, i biancorossi devono battere la diretta concorrente Forri, partita che si giocherà questo pomeriggio. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del centro. Crollo del convitto, chiesti danni, il titolo di apertura, l'Aquila a casa dello studente, avviato l'iter per la demolizione. E poi a Sulmona lotta le mafie, studenti peligni con Libera. Nel taglio basso invece notizia da Celano, sfila il corteo, cade dal balcone, donna precipita durante la processione del venerdì santo. Cambiamo testata adesso, passiamo sul messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo, titolo di apertura anche qui dedicato al duplice omicidio di Ortona. Presto ucciderò mia moglie. Letizia e Laura accoltellate, Marfisi avrebbe annunciato nel bar le sue intenzioni, lui al PM. Tra loro c'era una relazione, lo sapevano tutti, non sopportavo di essere deriso e dunque ci sarebbe questo movente dietro la furia omicida di Marfisi. E poi la denuncia inascoltata, minacce con un bastone o paura? Mi ha minacciato con un bastone di una tenda il 4 aprile quando Letizia Primiterra denuncia per maltrattamenti e minacce il marito Francesco Marfisi. A distanza di 10 giorni, quel marito descritto come violento, si trasformerà in uno spietato killer. E sappiamo tutti purtroppo cosa è accaduto. A centro pagina, mitra e pistole nell'arsenale, la pista è quella balcanica, arrestato un cinquantenne di San Giovanni Tiatino, le armi nel condotto dell'area condizionata. E poi la Serie A e dunque il calcio, la febbre dei tifosi per Pescara Juve. Oggi il big match all'Adriatico folla all'aeroporto ad accogliere la squadra che detiene il titolo di campione d'Italia. Oggi è lo stadio adriatico e il Pescara prova la missione impossibile contro la corazzata Juve dell'ex Massimiliano Allegri. Tantissimi tifosi hanno aspettato i bianconeri. Di spalla, Sisma 2016, le imprese esentate dal fisco i decreti spiegati nel dettaglio dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso che dice che la norma vale per le attività all'interno del cratere. Poi nel taglio basso la Pasqua tra processioni agnelli in salvo. Partecipatissime le processioni del Venerdì Santo in Regione tra cui quelle storiche di Chieti e l'Aquila che ieri sera si sono snodate nei rispettivi centri storici. A Chieti in particolare hanno partecipato ben 30.000 fedeli in preparazione dei banchetti di Pasqua da segnalare l'operazione dei carabinieri del NAS che in Marsica hanno salvato 30 agnelli dalla macellazione clandestina al di fuori delle regole sanitarie. Andiamo a vedere nel taglio alto l'Aquila, casa dello studente, la demolizione entro l'estate. Poi il memoriale ancora da Pescara, critiche al Papa dal sacerdote, il vescovo chiede scusa ai fedeli. E poi la politica in lutto, Pescara piange Piscione, fu assessore e sindaco per la democrazia cristiana. Inaugurò la nuova stazione ferroviaria insieme a mister Galeone, i guai con Tangentopoli, l'ingresso nel PSI a sostegno di Susi. Questo per quanto riguarda il quotidiano Il Messaggero. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura, zona franca nel cratere sismico per due anni. Tutte le imprese beneficeranno dell'azzeramento degli obblighi fiscali e contributivi. Nel taglio alto la politica teramana, la crisi in maggioranza e dissidenti gattiani sono fuori da Futuro Inn. E poi Giulianova di Spalla, città in ritardo per il Ponte di Pasqua. Tortoreto al voto, Piccioni mette d'accordo il centrodestra e poi sentenza storica, la ASL deve farsi carico del bimbo autistico. Ad Atri, arrestato il maestro pedofilo, filmava di nascosto adulti e minori in piscina. E poi nel taglio basso, la guerra del teatro, Guido Baldi, Bacchetta di Sabatino e a Teramo la protesta creativa piantano fiori nelle buche di fronte casa del sindaco. A centropagina invece troviamo il calcio con la Lega Pro e il Teramo, al Bonolis la partita che vale una stagione, pomeriggio di fuoco per il diavolo alle prese con il Forlì in quello che è un vero e proprio spareggio salvezza. Lasciamo le prime pagine regionali adesso, apriamo lo spazio come di consueto dedicato al nazionale, dando a vedere i principali quotidiani italiani. Questa è la prima del Corriere della Sera, Consip, ho chiesto verifiche, intervista al Ministro della Giustizia Orlando e i controlli della Procura Generale di Napoli sui carabinieri. Sondaggio, 5 stelle avanti ma in calo il centrodestra unito batterebbe tutti. Poi nella fotonotizia il venerdì santo sui migranti Le Pen attacca il Papa, la via Crucis di Francesco nel segno delle donne, tradizionale via Crucis nel centro storico di Roma. Nel taglio alto, superbomba degli Stati Uniti, Kim minaccia la guerra, ovviamente parliamo della Corea del Nord, Bechino in allarme, può scoppiare davvero e sarebbero conseguenze davvero imprevedibili. Speriamo che tutto rientri nell'alveo di una pseudonormalità. Andiamo sulla Repubblica, pronti alla guerra, alta tensione Stati Uniti, Nord Corea, sfida sul test nucleare, la Cina perderete tutti, reportage da Pyongyang, Kim, padre generoso. E poi nella fotonotizia a Roma il marchio del razzismo sui negozi gestiti da stranieri. Nell'iniziativa di azione frontale vedete la locandina aiuta il tuo popolo, boicotta i negozi stranieri, sostiene le attività commerciali italiane del tuo quartiere. Davvero una locandina che ci riporta indietro con la memoria a periodi, parliamo del fascismo e del nazismo, che purtroppo non hanno rappresentato un lustro per il genere umano. Anche lì si boicottavano in quel caso negozi gestiti da ebrei. E quindi quando ci sono questi rigurgiti di razzismo bisogna sempre condannarli. Andiamo avanti, passiamo alla stampa. Spunta una legge salva abusi edilizi, si cambia tenore per quanto riguarda la notizia in primo piano. Povertà, l'assegno massimo sarà di 485 euro al mese, multa di 200 euro a chi viaggia in bus senza pagare. Al valo la norma che distingue tra casi di speculazione e di necessità. E poi i venti di guerra in Estremo Oriente, Trump pronto a rispondere al test nucleare di Pyongyang. Per quanto riguarda invece all'Italia, il referendum per il via libera all'accordo che è stato raggiunto fra governo, azienda e sindacati. Ora spetterà ai lavoratori varare un piano che comunque prevede circa 980 esuberi e tagli anche dei salari. Andiamo sul fatto quotidiano. Consip arrivano nuovi indagati. L'inchiesta corruzione turbativa d'asta per l'appalto FM4 da 2,7 miliardi. altro che inchiesta falsata o ridimensionata, i PM di Roma vanno avanti sulle tangenti. Nel taglio alto, mai dire Rai, campo dall'orto se ne va e il primo scalpo di Renzi la dia alla porta colpevole di non aver ripulito Rai 3. Andiamo sul messaggero. Nord Corea, Trump pronto ai raid. Piani del Pentagono per azioni militari preventive. Il dittatore Kim avverte combatteremo. La Cina dice che la guerra può scoppiare in ogni momento. Annullati tutti i voli Pechino-Piong-Yang a partire da lunedì. Poi troviamo in primo piano l'accordo per salvare l'Italia. Decide il referendum fra i dipendenti. Se passa e no. Azienda commissariata a costo per lo Stato, dice il ministro delle attività produttive. Calenda circa un miliardo nel caso di no all'accordo. Poi ancora la candidata francese Marine Le Pen. La chiesa non si impicci. Migranti Le Pen contro il Papa Francesco. La via Crucis per loro. E poi sul bus senza biglietto. 200 euro rimborsi per le cose in ritardo. Questo è il costo delle sanzioni per chi viene trovato senza il biglietto sugli autobus. Andiamo sul Sole 24 Ore. Il principale quotidiano economico italiano apre con finanziamenti alle PMI e sgravi agli enti pensioni. Estesa la possibilità di raccogliere fondi sul web. Cancellata l'Imu sulle piattaforme offshore. Incentive ai manager dei fondi di investimento che si trasferiscono in Italia. Queste alcune delle misure nel campo economico. E poi l'accordo all'Italia. 670 milioni. Il taglio al costo del lavoro. Gubitosi. Si sblocca la ricapitalizzazione. Ora il referendum. Calenda. Il no costerebbe un miliardo, come vi avevo annunciato in precedenza. E poi una notizia che riguarda invece Fiat Chrysler. Alleanze solo se conviene entro l'anno intesa tecnologica. John Elkan. No big deal di per sé, ma assicurare la prosperità della azienda. E questo per quanto riguarda anche l'automotive. Andiamo sul manifesto. Ora testate calde il titolo sulla fotografia che vedete di missili pronti ad essere esplosi. Dopo la superbomba sull'Afghanistan, Trump in versione guerra fondai avvola nei sondaggi. Oggi l'armata USA arriva in acque nordcoreane per pressare Pyongyang che festeggia intanto il centocinquesimo di Kim Il-sung, forse con un test nucleare e promette una risposta spietata. Ancora rapporto dell'Istat. Noi Italia, 8 milioni sono i poveri e pochi i sussidi per le persone che sono in gravi difficoltà economiche. Ancora la Turchia al voto. Opposizioni a rischio se vince il sì a Erdogan. Queste elezioni sono molto importanti per la geopolitica nel Medio Oriente. Andiamo sull'unità adesso che invece pone in primo piano un'altra notizia, l'industria del falso. Grazie alle condivisioni sui social con le fake news si incassano migliaia di euro. Inchiesta dopo lo sceno attacco a Laura Boldrini, le dieci regole per riconoscere le fake news. E poi a centropagina Trump e Kim, uomini che seminano la guerra. La Corea del Nord è pronta a usare le bombe. Nel taglio basso aumentano i poveri, 4,5 milioni. Pronto il reddito di inclusione. Questa è la notizia che viene messa in primo piano dall'Unità. Ora cambiamo testata, passiamo al tempo. Bomba o non bomba? Corea, pronta all'atomica, gli usa a rispondere. Sono nove i paesi con ordigni nucleari. Nel mondo 43 guerre, 300 fronti caldi, 752 gruppi terroristici. Soprattutto sono stati spesi 13 miliardi in armi. Poi a centropagina parla Cerroni, re dei rifiuti, serve subito la discarica. Topi, maiali, gabbiani, Roma, mai così l'ercia. Ovviamente il tempo pone grande attenzione a ciò che accade all'interno della capitale, essendo un quotidiano romano. Altra notizia, il partito dell'Agnello non porta voti. I sondaggisti bocciano l'uscita di Berlusconi e della Boldrini a favore della salvaguardia degli Agnelli. Andiamo su Libero. L'America va alla guerra, aiutate il soldato Trump. Donald vuole scordare al mondo gli otto anni di politica estera di Obama. Ha capito che l'ONU è inutile, ha individuato nell'Isis e nella Corea i nemici dell'Occidente. Le bombe sono un messaggio a Cina e Russia per schierarsi con gli Stati Uniti. E la pace questa, la lettura del quotidiano guidato da Vittorio Feltri. A centropagina, l'inarrestabile ascesa dei falsari grillini. Più errori fanno, più crescono. Tutto si perdona ai 5 Stelle perché chi lo vota non si aspetta nulla. Andiamo sul giornale, dunque restiamo sempre nel campo del centrodestra. Attenzione USA-Nord Corea, guerra mai così vicina. Ecco cosa succederà se oggi Kim lancia un missile, Trump può attaccare il rischio di una guerra nucleare. E poi botta da un miliardo per i no di Alitalia. Se i sindacati bloccano la trattativa, paghiamo noi. Uber torna legale. Il Tribunale di Roma annulla il blocco. Andiamo sulla verità. Le sorprese della finanziaria. Il governo lo mette nero su bianco. Più immigrati è taglio degli stipendi. Il DEF cita come guida il documento del Fondo Monetario che ordina di integrare gli stranieri nel mercato del lavoro abbassando le paghe. Confindustria applaude e Miniti già avvia l'esperimento in 11 province. Così Maurizio Belpietro sul suo quotidiano. A centropagina la foto dell'ex premier Ricoletta. L'ex premier a libro paga delle autostrade spagnole. Ora andiamo sul mattino di Napoli. A un passo dalla guerra. Vedete, tutti i quotidiani esprimono la preoccupazione che si vive in queste ore per ciò che sta accadendo in Oriente. Stati Uniti pronti a un raid preventivo contro il test nucleare della Nord Corea. Appello di Cina e Russia. Il conflitto può scoppiare in ogni momento. Seul nel mirino di Pyongyang. E poi bus multe da 200 euro e senza biglietto. Arriva il reddito di inclusione per 2 milioni di poveri. Gentiloni è la prima volta per l'Italia. Queste le misure varate dal governo. La gazzetta del Mezzogiorno e il quotidiano pugliese apre anch'esso sulla questione Stati Uniti e Nord Corea. Pasqua di guerra. Trump pronto al raid contro il regime di Kim. Putin ora moderazione. La Cina quasi rassegnata al conflitto. Cancellati i voli per Pyongyang. Andiamo sul secolo XIX. Stangati gli abusivi sul busso. Che in commissione a legge che sana opere edilizie irregolari per casi di necessità. Manovra. Maxi multa a chi è senza biglietto. Comuni. Assunzioni. Con sponsor. E poi a centropagina. La commissione di inchiesta del Parlamento inglese. Infiltrato a Genova. Londra ammette nostro agente tra i black bloc al G8. Andiamo sull'avvenire. Giochi di guerra con il fiato sospeso. La Nord Corea provoca gli USA pronti ad agire per quanto riguarda i problemi in Oriente. Il Papa. I naufragi e il sangue versato sono la nostra vergogna. Questo il richiamo di Papa Bergoglio nel corso della tradizionale Via Crucis di Roma. Il Gazzettino e il quotidiano del Nord-Est. Maxi multa a chi non paga il bus. Manovra bis in caso di gravi ritardi. Rimborso delle ticket. Ipotesi detrazione del 19% per gli abbonamenti. Lotta all'evasione sui mezzi di trasporto. La sanzione minima sarà 60 volte il costo del biglietto. E poi a centropagina. I timori di Mosca e Pechino. Venti di guerra tra USA e Corea. Trump pronto ad attaccare Kim. Andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi nazionali. Dunque andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport che fa una prima pagina particolare oggi in onore al derby che per la prima volta sarà un derby cinese. Dunque c'è praticamente una locandina stile teatro. A pranzo vincerò il titolo eccezionale prima cinese alla scala del calcio cioè a San Siro. Questa è la locandina per Inter Milan. Perisic Suso. Le chiavi della sfida. Materazzi e Gattuso sono in campo virtualmente nel prepartita. E poi gioca a scola. Attenzione all'identità. Fassone dice la missione della nuova proprietà cinese. Riportare il Milan in Champions. Lo spareggio per l'Europa League. Pioli al bivio. La vala spacca. Record d'incasso per la Serie A per questa attesissima partita. Per questo derby. Andiamo invece sul Corriere dello Sport. Chin Chin derby. Il titolo di apertura. Inter Milan a pranzo alle ore 12.30. Prima sfida tutta cinese. Record d'incasso. Oltre 800 milioni. La vedranno in TV. Lì azzera il debito rossonero e sogna Benzema. Icardi vuole guastare la festa. Vincere per dare un segnale. Pioli e Montella caricano le rispettive squadre. Poi di spalla l'esclusiva del giornale Amsic. Napoli sei il più bello d'Europa. Ancora tre gol per fare la storia come Maradona. E poi rinnovo fino al 2022. De Laurentiis. Blinda Insigne per cinque anni. Nel taglio alto Higuain che va a 200. Un altro gol per festeggiare questa quota tra Liga e Serie A. L'argentino guida la Juve a Pescara aspettando il Barça nel ritorno della sfida di Champions vinta all'andata. Vi ricordo. Dalla Juve per 3 a 0. E poi Florenzi. Torno presto. Rivolio Roma e Nazionale. Pronto per inizio campionato. Il secondo infortunio peggio del primo. Mia figlia mi ha salvato. Dice Florenzi. Sarò una bandiera proprio come Totti e De Rossi. Poi i motori. La Formula 1. Oggi la Poli in Bahrain. Vettel comincia bene. La Ferrari ci riprova. Seb primo. Elettronica in tilt. Guai per Raikkonen. Raikkonen. La seconda guida della Ferrari. Adesso andiamo a vedere anche qualche quotidiano online. Ripartiamo dal nazionale andando a vedere il portale di informazione di Repubblica.it. La via Crucis. Papa. Vergogna per sangue innocente di donne, bimbi, migranti e per i scandali della Chiesa. Questo è il monito durante il rito della via Crucis al Colosseo 20.000 in piazza per ascoltare il pontefice. Poi le tensioni internazionali con i venti di guerra in Oriente. Corea del Nord usa i timori di Mosca e Pechino. La guerra può scoppiare, scusate, in ogni momento. Kabul. La superbomba ha ucciso decine di militanti dell'Isis. Scendiamo ancora. Andiamo a vedere questa notizia che riguarda le elezioni in Francia. Le Pen attacca il Papa. Io estremamente cattolica ma sono arrabbiata per le aperture sui migranti. La carità è individuale. Non penso che le religioni debbano dire ai francesi quello che devono votare. Ancora il referendum in Turchia. Ultima spiaggia per fermare i superpoteri a Erdogan. Domenica si vota per decidere se diventerà una repubblica presidenziale. La Turchia, testa a testa, tra il sì e il no. Andiamo sul Corriere della Sera. E dunque sul sito del Corriere.it. Nord Corea, fantascenario di guerra, missili intercontinentali alla parata. Video della superbomba degli Stati Uniti. Viene spiegata anche come funziona. E poi in primo piano il passo di Orlando sul caso Consip. Ho chiesto controlli sui carabinieri. Questo è l'intervento del Ministro della Giustizia. Scendiamo ancora. I turisti della salute, gli italiani all'estero per cure low cost, gli stranieri arrivano da noi. Questa l'inchiesta del Corriere. E poi il sondaggio. I 5 Stelle ancora primi ma arretrano il centrodestra. Se fosse tutto unito sarebbe in testa. Passiamo adesso ai quotidiani online regionali. Andiamo su primadanoi.it. Omicidio di Ortona in primo piano. Letizia aveva paura del marito. Non è stato un raptus ma il tragico epilogo di uno schema che si ripete sempre più spesso. E poi l'interrogatorio. Duplice omicidio. Non mi fai paura. Non sei capace. E poi le coltellate. Le prime verità che emergono dal reo confesso Francesco Marfisi. 40 Agnelli festeggeranno la Pasqua salvati dalla macellazione abusiva da parte del NAS. E poi un arsenale in casa con i soldi e droga arrestato ai 50 anni di San Giovanni Tiatino. Andiamo su abruzzoweb.it. Andiamo a vedere anche qualche altro titolo. Vediamo se si carica il sito o no. Allora passiamo su ABR News 24. Inchiesta Palazzo Centi. Accuse di falso per i componenti della commissione. La notizia che viene posta in primo piano. E poi cade dal balcone durante la processione a Celano. Una donna è finita in ospedale. E ancora per la cronaca si schianta con l'auto a Chietiscalo. È grave un giovane di Rosciano. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Intanto andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora torniamo alle notizie dalla nostra regione. Facciamolo andando a guardare le pagine interne di Centro Messaggero e Città. Partiamo proprio dal quotidiano Il Centro che in primo piano pone la super sfida di oggi pomeriggio allo stadio Adriatico Cornacchia tra Pescara e Juventus. Parla il capitano e bandiera della Juventus Buffon. Questa terra nel mio cuore, tutti in vacanza in Abruzzo. Super Gigi dopo le tragedie in una regione da rilanciare, venendo al mare o in montagna, invita a trascorrere le proprie vacanze qui in Abruzzo. Alla vigilia di Pescara Juve, il portiere che non giocherà, infatti in porta giocherà neto, parla in esclusiva al giornale. Da bambino mi piaceva il Pescara di Galeone. Poi a Chieti 20.000 tifosi per la vecchia signora, un'accoglienza da campioni, oggi record di spettatori allo stadio Adriatico. Biglietti in fumo davvero in pochissimo tempo. Andiamo a vedere l'altra pagina delle due dedicate a questo argomento. La visita all'Aquila dopo il terremoto del 2009 mi è rimasta dentro e mi ha arricchito. Zeman anti-Juventino, no, sono cambiati i tempi e certe dichiarazioni che ricorderete il tecnico Boemo fece sulla Juve di allora. Parliamo dell'era Moggi. E poi in basso vedete la fotografia dell'accoglienza dei tifosi juventini e dunque tifosi abruzzesi ma anche la fuori regione al pullman della Juventus con i giocatori che sono arrivati nel ritiro per la partita di questo pomeriggio. Andiamo avanti con la pagina di primo piano del quotidiano Il Centro. Orrore Ortona, Letizia, ora è mia, tu le fai schifo. Ecco la frase riferita dal marito al PM. L'avrebbe detta l'amica prima di morire. Marfisi confessa e piange sconvolto dalla relazione tra lei e mia moglie. Ovviamente queste sono le prime dichiarazioni rese al magistrato e le prime indiscrezioni che emergono da questa inchiesta. Le reazioni al doppio femminicidio. Donnet vuole chiedere i danni. L'associazione contro l'assassino. Ancora il dolore del padre parla di Dino Primiterra. Mia figlia aveva paura di lui e era andata dai carabinieri con Laura. Non c'era alcuna relazione sentimentale. Queste sono le parole del padre di Letizia Primiterra a seguito di questo scioccante fatto di cronaca. Andiamo adesso sul quotidiano Il Messaggero per andare a vedere la pagina Abruzzo. Eccola qua. Marfisi gridava nei bar ucciderò mia moglie. Dunque si torna a parlare del doppio femminicidio. Ortona, la coniuge, lo aveva denunciato per le minacce con un bastone da tenda. Laura è stata accoltellata a sua volta per la stretta amicizia con la donna. E poi tra loro c'era una relazione in città. Lo sapevano tutti. Questo emerge dall'interrogatorio dell'uomo. Non sopportavo di essere deriso. Anche Letizia mi diceva che ero stupido e volevo spaventarla. Quando mi ha detto che non le facevo paura ho perso la testa. Pensavo di averla soltanto ferita. Per quanto riguarda le reazioni, la senatrice dell'EPD Stefania Pezzopana dice crudeltà che lascia sgomenti. Nel taglio basso l'evento. Dacia Maraini ricorda Giuseppe Moretti. E poi il caso. Palazzo Centri. Verbali di gara sospetti. Tre indagati accusati di falso ideologico. Questo per quanto riguarda la pagina Abruzzo del messaggero. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo che riguarda il quotidiano La Città. In questo caso si parla di zona franca e dunque di decreto terremoto. Vediamo di andarla a visualizzare insieme. Azzerate tasse e contributi nel cratere. Per due anni le imprese non avranno obblighi fiscali e contributivi dal governo. Un decreto da 10 lode. Queste le parole del governatore D'Alfonso che fra poco ascolteremo. La conferenza. Il presidente ha illustrato i provvedimenti contenuti nell'ultimo DEF del governo Gentiloni per la ricostruzione. Il sindaco Brucchi soddisfatto all'80% dai provvedimenti per le zone terremotate. Merito anche della battaglia dei sindaci. Andiamo ad ascoltare le parole del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Per la prima volta nella storia amministrativa ed istituzionale dell'Italia e dell'Europa si vara una norma che insedia la zona franca fiscale e contributiva. Noi conoscevamo le zone franche, fiscali, per esempio in Francia. Timidi tentativi anche in Italia. Ma mai la zona franca fiscale e contributiva per aiutare le imprese a rinascere economicamente. Quali imprese? Le imprese operanti nei comuni del cratere. Quale cratere? Il cratere che è stato identificato con provvedimento di Palazzo Chigi e fatto proprio dal Parlamento in relazione ai terremoti del 2016 e 2017. E' un provvedimento che azzera gli oneri fiscali e gli oneri contributivi per tre anni, due anni, più uno, per quanto riguarda le imprese che investono nel rettangolo di questa Italia penninica che riguarda Abruzzo, Umbria, Marche e anche Lazio. Accanto a questa norma che io qualifico rivoluzionaria, c'è anche un'altra norma che sostituisce la capacità fiscale coincidente con gli immobili che danno luogo al contributo dell'Atari per i bilanci comunali. Poiché c'è stata demolizione di questi immobili a causa del terremoto, ci sarà un sostitutivo contributivo da parte del Governo. E si continuerà nella semplificazione delle procedure. Io proporrò di qui a qualche settimana che la cabina di coordinamento dei quattro presenti Regione e anche di Errani e di Palazzo Chigi varino anche una misura graduata per aiutare i comuni fuori cratere, in zona sismica 1, rischio 1, per quanto concerne non solo la ricostruzione ma anche un aiuto alla ripresa delle attività economiche. Così come insisteremo per fare in modo che i comuni danneggiati da terremoto e da maltempo, 2016-2017, abbiano la sospensione degli oneri nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti per un anno. Andiamo avanti ancora con la lettura dei nostri giornali, andiamo sulla pagina di Pescara del Messaggero e andiamo a vedere questa notizia che riguarda la cronaca, un'operazione dei carabinieri a Senale in casa, pista balcanica. In una casa di San Giovanni Tiatini i carabinieri trovano pistole con due silenziatori, munizioni e una mitraglietta. Arrestato Ennio De Midio, custode cinquantenne che nascondeva anche cocaina e 50 mila euro in tre mazzette di banconote. Vedete la foto di Ennio De Midio. Gli specialisti del RIS dovranno stabilire se queste armi clandestine hanno già sparato e per mano di chi. Andiamo a vedere questa operazione dei carabinieri nel prossimo servizio. Per ente di Dalmazzi avete scoperto in casa di un cinquantenne residente in provincia di Chieti un vero e proprio arsenale, droga e 50 mila euro in contatti. Un ritrovamento decisamente inusuale. Abbiamo trovato delle armi, quattro pistole e un fucile mitragliatore che può essere catalogato come arma tipo guerra e soprattutto la presenza di due silenziatori che, ripeto, non sono certamente parti di armi o di munizionamento che si trovano tutti i giorni. Due etti di cocaina e 50 mila euro in contanti. Ci siamo arrivati tramite delle indagini che stiamo conducendo ormai da mesi e, come ricorderete, hanno portato poi al ritrovamento di altre armi in altre circostanze nella città di Pescara. Preoccupa soprattutto il ritrovamento di questa mitraglietta? Sì, la mitraglietta è un'arma dal potenziale abbastanza alto. Permette il tiro a raffica e soprattutto, dotata di silenziatore, apre degli scenari inquietanti. Ora stiamo cercando di ampliare le indagini a 360 gradi per poter capire a cosa sono servite queste armi e questo ce lo potrà dire chiaramente il RIS con le sue analisi e soprattutto capire a cosa sarebbero potute servire, se per agguati o rapine o chissà quanti altri delitti. La cosa che interessa a noi è sottrarre a questi delinquenti le armi, perché le armi possono avere una forte valenza intimidatoria sia per quanto riguarda i reati come estorsioni e rapine, sia per reati molto più gravi come ad esempio gli omicidi o le esecuzioni. Notizia questa che ritroviamo anche sul centro, indagini su armi e droga. Nascondeva Arsenale in casa, viene arrestato in carcere cinquantenne di Dragonara per 200 grammi di cocaina e detenzione illegale di quattro pistole, proiettili e una mitraglietta. Il materiale sarà esaminato dal RIS, come abbiamo già visto. Andiamo ancora avanti con la lettura dei nostri quotidiani. Adesso andiamo all'apertura della pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere che cosa viene posto in primo piano. Il futuro della Tiburtina. Uffici e spazi commerciali nell'ex sede di Pozzolini. Il costruttore Chiavaroli annuncia i suoi progetti per far rinascere la zona. Sono cominciati i lavori di bonifica di due capannoni abbandonati da anni e visitati spesso dai ladri. Nella palazzina di Via Gran Sasso tornano le docce per i senza tetto. Il comune riaffida la Caritas, l'immobile al civico 59, rinnovando una confezione scaduta a gennaio. L'assessore è allegrino. Così ripristiniamo un servizio per aiutare le persone che vivono in strada. E poi università e stadio si faccia chiarezza. Il docente di urbanistica Zazzara chiede al sindaco di spiegare i progetti e il rapporto con l'università. Andiamo ancora avanti. La politica in lutto. Morto a 80 anni l'ex sindaco Piscione, primo cittadino dall'86 all'88, inaugurò la stazione centrale. I funerali oggi alle 16.30 nella chiesa della Sacra Famiglia. Notizia che andiamo a vedere anche sul quotidiano Il Messaggero. La politica piange Neveo Piscione. Vedete il ricordo di D'Andrea Matteo, un antagonista, non un nemico. inaugurò la nuova stazione a Braccetto con mister Galeone e poi fu travolto dalla condanna che lo costrinse a dimettersi. Dopo l'abbandono della balena bianca si era schierato con il socialista Susi. I funerali oggi a Cole Pineta alle 16.30. Andiamo ancora avanti con la lettura dei nostri giornali. Adesso andiamo a vedere un'altra notizia, sempre dal quotidiano Il Messaggero. Mense scolastiche, comune parte civile, servizio a rischio, deficit di fiducia. Alessandrini mobilita l'avvocatura, Cuzzi esclude Inciuci, maladittora teme la revoca. Sul maxi appalto da 17 milioni al CIR Bioristoro. Tante le domande in commissione di vigilanza. Andiamo a vedere anche sul quotidiano Il Centro altre notizie. Inchiesta sugli appalti scolastici, quindi torniamo sempre sull'argomento Mense. Costi gonfiati per assumere gli amici. Un rapporto della finanza rivela spese inutili solo per inserire nuovo personale. La Corte dei Conti accusa, mancati controlli del Comune per favorire la ditta. Il Sindaco, con il suo annuncio, chiederemo i danni. Raccomandazioni, scontro tra 5 Stelle e D'Alfonso. I grillini accusano e usanza del Presidente segnalare dipendenti la replica macchina del fango. Nel taglio basso, Porto, avviati controlli dei fondali, nuove segnalazioni di zone insabbiate, i rilevi batterimetici effettuati dall'Arta. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Ancora avanti con il giornale. Andiamo sulla pagina di Montesilvano. Strade alluvionate, la protesta di 45 residenti stufi di sopportare l'incubo di non poter rientrare in casa. Gli abitanti delle vie Ugo Bassi e del Borgo, i nostri guai, nascono da un fosso struito, ma nessuno interviene. Poi controlli del Comune, ispezionati pozzetti e pompe di sollevamento sulla riviera. Andiamo ancora avanti, sempre con la pagina di Penne Popole dell'Alta Val Pescara. In auto contro un muretto grave un ventenne di Rosciano. L'incidente è avvenuto alle 4.30 di ieri mattina a Rondò di via sul Monachietti. Il ragazzo era incastrato tra le lamiere della sua Fiat 1 su cui viaggiava da solo. E poi Penne al via la demolizione di un'ala dell'Abrioni lesionata dal sisma. Nel taglio alto, oggi l'Ecotrail nella Valle Giumentina. Manoppello rispettato il patto di stabilità. Il sindaco Giorgio De Luca ha approvato un bilancio che non graverà sui cittadini. Nel taglio basso, Alagno, occhio all'autovelox. E poi convegno a Penne e turismo nel dopo terremoto politici ed esperti a confronto. Andiamo ancora avanti con il giornale e passiamo adesso, anzi torniamo sul quotidiano, il messaggero. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Casa dello studente, sì alla demolizione. L'edificio, scusate, rimettiamo la pagina precedente. L'edificio simbolo del terremoto sarà abbattuto in estate. Nel Ground Zero un monumento per ricordare le vittime. L'intervento necessario alla sicurezza del traffico stradale e dei fabbricati vicini in cui stanno per tornare gli inquilini. E poi le procedure e l'appello degli ingegneri, pratiche da informatizzare per quanto riguarda il genio civile dell'Aquila. Poi il recupero mensa di Coppito, gara per i lavori, l'Azio anticipa quasi un milione. Il presidente Beaumonte Zobel, la regione non ci aiuta, anzi toglie i finanziamenti. Nel taglio basso, bretella chiusa, l'ANAS nessun danno. Questa è la notizia che riguarda la viabilità. Andiamo ancora avanti sulla pagina Aquilana. I salviniani biondi sindaco ideale. Sancita l'intesa tra il partito e il candidato di Fratelli d'Italia. Atteso oggi l'annuncio della convergenza ufficiale dei forzisti, imprudente. Grazie a noi la coalizione sarà unita dopo dieci anni da Deramo, un passo indietro fatto di coraggio e responsabilità. L'ex sindaco di Villa Sant'Angelo, i voti prestati alle primarie l'11 giugno, torneranno a casa. E sempre per quanto riguarda le elezioni amministrative in programma nel capologo di regione, Pietrucci non entro nella lista PD ma restino fuori anche gli altri big. La consultazione ha fatto emergere una netta volontà di cambiamento. Nel taglio basso, i riti della settimana santa. Venerdì santo, processioni e ostacoli in centro. Commozione per la prima volta senza roccioletti. Andiamo adesso sulla pagina di Avezzano Sulmona. Scuole pronti, 250 posti alle primarie. L'annuncio del sindaco di Pangrazia aumenta le polemiche. Il primo cittadino tra cinque giorni ci sarà l'inaugurazione. Bracco di Sinistra Italiana accusa dubbi sulla Mazzini Fermi. De Angelis, il piano della sicurezza partì quando io ero assessore. In settimana annunciata anche l'apertura della nuova Agostino Persia. In Valle Roveto, 40 agnelli salvati dalla macellazione abusiva grazie ad un'operazione del Nassabruz. E poi ecco la webcam sulla Madonna che scappa e sui riti pasquali. Andiamo avanti adesso sempre sul quotidiano. Il messaggero, andiamo a vedere la pagina di Echieti. Processione del venerdì santo. L'emozione dei 30.000 fedeli. Le vie del centro storico scosse e impreziosite dalle struggenti note del miserere di Selecchi. Musei aperti, mostre sul tema e visite guidate prima di lasciare spazio ai simboli della passione. Cerimonia e processione è quella di Echieti che è tra le più antiche d'Italia. Nel taglio basso invece le bega all'Università di Ilio del Vecchio. Azione disciplinare. L'iniziativa è un passaggio obbligato. Il risieme rigette il ricorso dell'ex DG sull'interrogazione. Andiamo a vedere altre notizie. Pasqua in bianco. Maielletta, feste record. Si scia anche il primo maggio. Iubatti, buon numero di presenze. Pensiamo a una nuova seggiovia. E poi l'incidente. Si schianta con l'automobile. Grava un ventenne senza patente. Andiamo a vedere la pagina di Lancianova a Stortone. Il Consiglio di Stato salva Palazzo Novecento. Niente demolizione a Lanciano, come decise il TAR 11 mesi fa. Accolto dalla sesta sezione il ricorso presentato dal Comune. L'edificio potrà ora ospitare diversi uffici pubblici, facendo risparmiare ben 85 mila euro l'anno di affitti. Andiamo, avete visto la pagina di Teramo. Prima di passare alle notizie dal Teramano, andiamo a vedere anche sul quotidiano il centro, la pagina di Echieti. Corsa al rettorato, i 13 punti di Capasso per la d'annunzio, il titolo che apre la pagina. Il professore di antropologia che ha dato lo stop alla gestione di Ilio del Vecchio presenta il programma elettorale. E poi in 30 mila alla processione tiatina. Andiamo avanti, sempre sul centro, la pagina dell'Aquila. post terremoto, crollo del convitto, chiesti 2 milioni di danni. La famiglia di una delle tre giovani vittime, cita il ministero, scuola e l'ex preside, l'avvocato Milo. In tutti questi anni i familiari sono stati lasciati soli. E poi cade dal balcone mentre passa la processione a Celano. Una donna precipita su un'automobile in sosta, folla di fedeli in tutti i cortei religiosi. Andiamo adesso sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo per vedere le altre notizie dal Terramano. I due dissidenti gattiani sono fuori per quanto riguarda la pagina politica. Futuro In prende atto delle posizioni individuali espresse da Falasca e Caccioni. E poi la guerra sul teatro. Guido Baldi bacchetta di Sabatino e chiede la pace al comunale. Autismo, la ASL deve farsi carico di Mattia, accolto e ricorso dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus sulle spese per le attività di riabilitazione. Ancora con le notizie dal Terramano. Clamoroso, la Team riapre il guado di Carapollo e il passaggio sul Tordino chiuso per motivi di sicurezza verrà riaperto a tutti di giorno e salvo meteo avverso. Ancora politica del tombino a San Nicolò. La minoranza d'EM denuncia l'assenza di manutenzioni e poi una notizia davvero particolare è la proposta creativa. Fiori nella buca di fronte e casa del sindaco Brucchi per ovviamente protestare per quanto riguarda la manutenzione delle strade. Andiamo in provincia. Stranieri nei guai per il giro di patenti false. Hanno presentato documenti falsificati alle autoscuole per ottenere la conversione del permesso di guida. Le indagini sono state individuate le tre patenti false con le quali i rispettivi intestatari avevano ottenuto la conversione con patente di guida italiana. I denunciati a finire nei guai dopo i controlli della polizia un cittadino moldavo, un marocchino e un albanese. Ancora il sondaggio. Il polo scolastico resta la priorità assoluta per i cittadini di Montorio. E poi la donazione. Un'ora di lavoro per la scuola materna di Civitella. Andiamo ancora avanti. Sempre sulle pagine della provincia di Teramo. Andiamo sulla pagina di Giulianova e Mosciano. Corsa contro il tempo per pulire le spiagge. Al lavoro la Ecotedi con i dipendenti della Giulianova Patrimonio per ripulire le spiagge in vista della stagione balneare. Poi sull'ospedale il sindaco Talce e l'opposizione attacca ancora polemiche per quanto riguarda la sanità nel Teramano. Per la cronaca, Serra di Mariano in casa, 34enne, finisce in manette. Andiamo ancora avanti. Andiamo a vedere qualche altra notizia da Roseto. Ha approvato un bilancio lacrime e sangue. Posiziona l'attacco dopo il Consiglio Fiume e inascoltate le nostre proposte per evitare il salasso. Andiamo sulla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. La sentenza, la ASL pagherà le cure a un bambino autistico. Questa è la decisione pilota del Tribunale di Teramo. Poi Tagliuzza, vestiti e scarpe alla ex, va a processo. Cinquantenne Teramano, già allontanato da moglie e figlia minorenne, deve restare a 5 km. Altre notizie dal Teramano sulla pagina del Messaggero. Due consiglieri lasciano il gruppo di futuro in Brucchi, nei Guai. Poi notaresco in lutto per Ciro Polone, morto nel Baratro. Nel Taglio Basso, la ciclovia del Tordino unirà il capoluogo alla costa. E poi spiaggia caccia i concessionari morosi. Per la pagina di Giulianova Roseto e della Val Vibrata, il comune di Giulianova vuole recuperare i soldi derivanti dagli affitti demaniali. Andiamo adesso alla pagina dell'Abruzzo Sport del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere ovviamente la super sfida dell'Adriatico Cornacchia. Zeman ha la missione impossibile, nemico dei bianconeri? No, soltanto di chi imbroglia. Il boemo accende la vigilia della partita con la Juve. Baebek c'è, ma è indubbio tridente offensivo. Benalica può a causa dell'influenza. Montari Bruno in ballottaggio, coda titolare. Come detto, Zeman ha acceso un po' la vigilia della partita con una battuta sul passato suo e dei bianconeri. Ha ammesso ovviamente che la Juve è più forte, ma questo non bisognava aspettare Zeman per capirlo. Allegri mette in guardia i suoi. L'Adriatico in campo trappola. Higuain e Dybala giocheranno titolari assieme a Mandzukic nel tridente offensivo. Andiamo ad ascoltare adesso, se la regia me lo consente, le parole del tecnico boemo Zenech Zeman che ha parlato appunto della Juve con una frecciatina all'ex direttore Luciano Moggi. Ma non è mai come tutte le altre perché è da anni miglior squadra italiana. E' la più forte, l'ha dimostrato in questi anni. Quindi fa piacere incontrarla. La squadra è club organizzato. Penso che oggi hanno tutto per andare avanti, non solo sul piano economico, ma anche sul piano di organizzazione. Un club che è all'avanguardia in Italia, quindi gli altri possono prendere esempio anche se non avranno mai le entrate che c'è la Juventus. E' Allegri per me, bravo. Sfrutta il grande potenziale che ha, riesce a gestirli bene, anche a secondo delle partite. trova sempre soluzioni giuste. Le dà fastidio questa cosa? Lei si ritiene nemico della Juventus? No, io mi sento nemico di quelli che imbrogliano. Io penso che se si vanno a leggere le carte in procura la gente se ne rende conto, oppure quelli da Juventus. Ma contro la Juve è difficile, è difficile per tutti, figuriamoci per noi, ma io spero che la partita, solo nome Juventus, richiama la concentrazione, la voglia di far vedere qualche cosa. Vabbè, io penso che siamo leggermente migliorati. Io vorrei un'altra velocità ancora. Il calcio è cambiato perché ci vogliono tanti soldi per poter prendere i giocatori, che poi, il calcio inglese e il calcio più ricco, spendono di più. Penso che sovvenzionano le squadre di Europa, però loro non vincono niente. Quindi quasi una più preghiera, cercare qualcosa da estero? E non so se bastano i soldi. Io ripeto, a Juventus ha soldi e organizzazione. Se non c'è organizzazione, è difficile. Sulla pagina dell'Abruzzo Sport del Messaggero si sottolinea come quella del Pescara sia una missione impossibile contro i bianconeri campioni d'Italia e lanciatissimi anche in Champions League dopo il 3-0 in casa al Barcellona con il tecnico dei bianconeri Allegri che dice, chiedo ai miei di esserci con la testa. Tra l'altro Allegri ha ricordato anche il famoso 5-1 del Pescara alla Juve quando giocava con la maglia bianca-azzurra. Cambiamo adesso in categoria, scendiamo in Lega Pro, Teramo col Forlì e con una finale, sempre dall'Abruzzo Sport del Messaggero. Andiamo a vedere anche il titolo sul Teramo del centro. Lega Pro, il Forlì al Bonoli, su Golotti al Teramo. Questa volta non si può sbagliare, il tecnico sprizza fiducia sulla corsa salvezza. Siamo in un buon momento, Fratangelo giocherà dall'inizio. Pagina Sport della città, ovviamente dedicata alla sfida del Bonolis. Pomeriggio di fuoco, il Teramo vuole la salvezza. Le 16.30 il fischio d'inizio di una gara che vale una stagione. Diavolo con l'assetto consueto gioca Tempesti dal primo minuto. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Golotti. Mi sarebbe stata definita quella con il Forlì la gara probabilmente più importante dell'anno. Come si prepara una gara del genere? In maniera come abbiamo preparato tutte le altre partite. I ragazzi sanno perfettamente che non possiamo più sbagliare. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto che ha pregiudicato il percorso un pochettino il percorso che stavamo facendo. Adesso abbiamo questa grande opportunità. L'ho detto, dipende solo e esclusivamente da noi. È normale che se non dovessimo riuscire a vincere la partita dovremmo pensare in ottica un pochettino diversa perché la classifica è quella. Abbiamo preparato la partita come abbiamo preparato le partite precedenti cercando di pensare a quello che dobbiamo fare perché stiamo in un buon momento al di là dell'ultimo risultato e dobbiamo cercare di riprendere il cammino. Possiamo dire che l'ultimo risultato, benché negativo, non ha fatto pagare il dazio che ci si aspettava al Teramo. Probabilmente anche gli incassi delle altre partite che potrebbero essere decisivi anche nelle prossime giornate è stato un fattore. Ovviamente il grande rammarico è che come si era messa la partita un po' di difficoltà le abbiamo avute perché la Reggiana è venuta con un assetto molto chiuso. Noi abbiamo trovato le nostre difficoltà che sono delle difficoltà che abbiamo un pochettino sempre avuto quando troviamo delle squadre chiuse. La partita si era incanalata, è venuto fuori questo risultato. Probabilmente un punto alla luce dei risultati che c'erano sugli altri campi a questo punto sarebbe stato oro. Però non dobbiamo guardare quello che è stato. Adesso dobbiamo guardare alla prossima partita. È normale. Quando si è in una posizione di classifica del genere bisogna fare il risultato prima di tutto noi. E poi è normale che se le altre davanti continuano a vincere o fanno come noi è normale che diventa difficile. Che Forlì ti aspetti? Un Forlì chiuso che attenderà il Teramo oppure propositivo per cercare il risultato positivo? Ma guarda, io non mi sono fatto un'idea perché ho visto molte partite del Forlì ha avuto un periodo a metà campionato in cui era una squadra arrembante una squadra che ha scalato le posizioni in classifica perché se pensate alle prime giornate era l'ultimo staccato poi ha avuto dei risultati molto sorprendenti. Adesso probabilmente ha cambiato anche assetto tattico non so con quale assetto verrà a giocare qua se con i tre difensori o con i quattro. Ai ragazzi ho detto che poco importa chi troviamo l'assetto di fronte o che squadra troviamo di fronte. Noi sappiamo che partita dobbiamo fare. Punto e basta. Non avranno Bardelloni e Capellubo che sono squalificati però anche in Casa Teramo insomma c'è questa assenza di spighi sbagliamo o se diciamo che si tornerà un po' all'antico il turnover per il momento accantonato? Ma no, non è stata una questione di turnover è proprio una questione di far respirare un pochettino perché tre partite in una settimana poi abbiamo cambiato due giocatori abbiamo avuto degli infortuni durante la settimana col fatto appunto di questi piccoli acciacchi era logico cercare di cambiare qualche cosa abbiamo l'assenza di spighi che è un giocatore che per caratteristiche ci compensava determinati movimenti determinati raccordi tra il centrocampo e l'attacco spero che gli aquili che giocheranno si facciano trovare pronti perché torno a ripetere si sono allenati bene di conseguenza io non ho particolari preoccupazioni da quel punto di vista. C'è tempo solo per vedere un'altra notizia di basket stasera in campo il Roseto col Piacenza per centrare i play-off col dubbio Casa Grande poi vincere e sperare la Proger all'assalto del Ravenna noi dobbiamo fermarci il tempo a nostra disposizione è finito io vi ringrazio per aver seguito anche questa mattina Mattino 6 vi auguro ovviamente una buona Pasqua dandovi appuntamento con la nostra rassegna a martedì grazie ancora buona giornata buon fine settimana Buon fine settimana Buon fine settimana Grazie a tutti.